Siamo davvero lieti come aeroporto di Trapani-Birgi di aver avuto questa possibilità di partecipare a questa iniziativa musicale promossa da Asseroporti, Associazione Nazionale di Categoria, unitamente ad ENAC, dal titolo La Festa della Musica. Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ha deciso di lanciare un forte segnale, promuovendo una delle feste più belle e affascinanti che la cultura possa mai offrire. Una festa che già si è realizzata in altre parti d'Europa e questa volta invece coinvolge l'Inter Italia, trasferendo un messaggio di partecipazione, di integrazione, di armonia e di universalità che soltanto la musica può offrire. Quello di oggi è il primo, che si tiene in questo, che è un luogo atipico per i concerti, però tramattina la presenza del pubblico credo che sia un bel segnale di partecipazione e di gradimento. Io dico intanto che quando la provincia di Trapani deve essere promossa e occorre rassegnare quanto di meglio si esprime, il luglio musicale c'è sempre e vuole continuare ad esserci. Desidererei aggiungere anche che oggi è rappresentata la vera Trapani, la Trapani bella, la Trapani colta, la Trapani pulita. E questo è il biglietto da visita che noi vogliamo dare ai visitatori. Un biglietto da visita deve sicuramente cancellare l'immagine distorta e deviante che le recronache di questi giorni hanno restituito della nostra provincia, della nostra città in particolare. Un'altra questione che mi piace sottolineare è che dobbiamo iniziare a considerare il nostro patrimonio identitario. Il luglio musicale è uno dei pilastri del patrimonio identitario non solo della città di Trapani, ma dell'intera provincia, come patrimonio di tutti e come patrimonio delle istituzioni e non come entità da mettere in discussione ad ogni bilancio, ad ogni problema. La cultura non è soltanto un'entità astratta, non è vero che con la cultura non si mangia perché la cultura diventa il biglietto da visita di un intero territorio e lo strumento fondamentale per promuoverlo a livello internazionale. Grazie a tutti.